Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Lite furiosa sul gruppo whatsapp degli ex allievi di amici. Due delle ragazze si sono lanciate delle accuse reciproche. Ecco cos'è accaduto, c'è grandissima attesa per la prossima stagione di Amici di Maria De Filippi che al momento dovrebbe aver iniziato a fare i primi screening di selezione. Questa per la conduttrice è la prima estate senza il marito. Maurizio Costanzo. Venuto a mancare pochissimi mesi fa. Lavorare è stato un modo per lei. Come ha dichiarato lei stessa in un'intervista. Per non lasciarsi andare troppo al dolore. Nel programma Amici spesso nascono dei grandi amori. Come quello tra Giulia Stabile e San Giovanni che ha fatto sognare tutti i telespettatori. Oppure delle belle amicizie che continuano a durare anche fuori dalla trasmissione. Sono un esempio Alessandra Amoroso e Valerio Scanu. Tuttavia. Qualche volta ci sono anche delle forti antipatie. Spuntano infatti le chat di una lite tra due allieve della scorsa edizione. Una lite furiosa su WhatsApp tra due ex allieve di Amici. I talenti di quest'anno di Amici stanno iniziando ad avere le prime soddisfazioni in termini di riscontro sia con il pubblico che a livello di traguardi personali. Molti dei ballerini hanno avuto importanti offerte di lavoro nei teatri di tutto il mondo e i singoli di alcuni dei cantanti sono diventati disco di platino. Tuttavia. Non ci sono solo buone notizie per i fan. Infatti. Sembra che due delle allieve abbiano avuto una lite furiosa su una chat WhatsApp. Nonostante durante il programma siano state molto amiche. Le cose sembrano essere così deteriorate che una di loro ha smesso di seguire l'altra su Instagram. Si tratta di Angelina Mango e Maddalena Svevi. A dare la notizia è l'esperto di gossip Amedeo Venza. Scopriamo di più sull'accaduto. Circolano le voci su una possibile lite tra Maddalena Svevi e Angelina Mango. La figlia del cantautore ha addirittura smesso di seguire Svevi su Instagram. Amedeo Svevi ha rivelato che le due hanno litigato e si sono mandate alcune frecciatine sulla chat di gruppo WhatsApp degli ex allievi del Talent. Secondo l'esperto di gossip, Maddalena Svevi avrebbe voluto fare un commento in privato con Wax sul comportamento di Angelina ma invece di mandarlo al ragazzo. Per sbaglio, lo ha scritto sul gruppo dove erano presenti tutti gli allievi, tra cui la cantante. La figlia di Mango non avrebbe preso molto bene la cosa. Prendendo la drastica decisione di togliere il follo all'amica. Non resta che aspetta di scoprire che cosa succederà. Grazie per aver guardato l'intero video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.